Dave ho un ospite internazionale, una cena di classe direttamente dal lago di Zeo da sale marasino seguimi, allora siamo direttamente sul lago quasi, siamo sul lago di Zeo, ospite la classe 86, 86 da che paese del lago di Zeo? Sale marasino, quindi zona del pesce, vedete qua facciamo vedere il piatto tipico di sale marasino questo è di Montisola, è il pesce tipico di Montisola, oh mamma che mi piace il pesce, eccoci qua prendi anche gli altri, no 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 io prendo la festeggiata della cena in classe, l'organizzatrice preferita e lei e lui hanno organizzato la cena, si fai da loro, no 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 io vengo da te, mi dici il tuo nome? Claudia, da? Sale marasino, ah non solo a scuola andavi a sale marasino, sei anche di sale marasino? Sono di sale, fantastica, sei già venuto a quel convento di Lonato? Sì Ti sei divertita? Sì Quindi anche stasera ti diverti? Siamo ritornati Perché lo consigli quindi? Eh perché è un grandissimo Sì? Ti sei divertita tanto l'altra volta? Sì 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 Quindi sei tornata per festeggiare adesso la cena di classe, l'altra volta che occasione? Completo Cosa hai festeggiato? Di chi? Mio Quanti anni hai fatto? 25 Quindi già due volte che viene al convento, uno per festeggiare, tre 1,25 anni di compleanno, due la cena di classe dell'86, la terza? E la terza era un altro compleanno Un altro? Eh! Quindi lei è una cliente abituale del convento Quindi diciamo a tutti i ragazzi di sale marasino che come lei di venire qui al convento a festeggiare Ciao! 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 Ciao!